L'aeroporto internazionale d'Abruzzo chiude gennaio 2019 con un incremento del 5% rispetto ai passeggeri dello stesso mese dell'anno scorso. Un incremento del traffico passeggeri gestito da Saga che ben si inserisce in un più ampio contesto nazionale, in linea con i trend di crescita negli aeroporti italiani e che lascia a besperare per i prossimi mesi che precedono la stagione estiva, dimostrando la capacità dello scalo abruzzese. A contribuire alla crescita dell'aeroporto abruzzese e rendere appetibile ai passeggeri la scelta dello scalo, ci sono i molteplici collegamenti in arrivo e in partenza, che si arricchiscono con nuovi voli in aggiunta a quelli già consolidati. Il 1 aprile si incomincia con Praga, a bordo della Ryanair. Ci saranno due voli, il lunedì e il venerdì, che permetteranno di raggiungere la capitale della Repubblica Ceca in circa un'ora e quaranta di volo. Il calendario ha anche due rotte esclusive, con i voli di Palermo e Cagliari, gestito da Volotea. Si incomincia con Palermo il 9 aprile e il 31 maggio Cagliari, per due volte alla settimana.